Uno scontro con toni alti tra il capogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli e il vice sindaco Enzo Del Vecchio e il capogruppo Marco Presutti. La questione si incentra sull'ampliamento del cimitero pescarese di Colle Madonna. Non ci sono più posti disponibili attualmente per necessità, tutti vengono dirottati a San Silvestro. Il problema nasce sui costi della privatizzazione. In primo luogo si tratta di una delibera che è stata redatta dalla precedente amministrazione, l'assessore del Trecco, quindi esattamente dalla stessa coalizione politica dell'attuale opposizione che noi stiamo portando avanti per continuità istituzionale. Non c'è nessun ricaro, sono esattamente le stesse tariffe che sono previste attualmente per il cimitero che sta conoscendo gli ampliamenti in virtù di questo progetto di finanza che va avanti da circa nove anni. Quindi non c'è nessuna novità salvo il fatto che questa delibera, ripeto, redatta dalla precedente amministrazione, consentirà l'ultimo ampliamento del cimitero di Colle Madonna nel quale purtroppo non ci sono più loculi. Credo che non ci sia bisogno di fare polemica su tutto e soprattutto appunto sui defunti. Impossibile per il comune assumersi l'onere della gestione diretta. La questione risale al 2007, quando cioè il sindaco del comune di Pescara era Luciano D'Alfonso. Una procedura assolutamente carbonara, tipica di quegli anni, in cui si cercava di far passare tutto nel segreto di una stanza senza mai investire il consiglio comunale, perché poi magari certe magagne sarebbero venute alla luce. Noi di quella stagione non abbiamo assolutamente rimpianti e personalmente non starò mai a tacere quando qualche d'uno, come del vecchio, cercherà di giustificare quei periodi e i provvedimenti adottati come elementi a favore di Pescara. Quei provvedimenti tutelavano altri interessi, non quello dei pescaresi. Io questo lo denuncerò sempre in tutte le sedi perché ritengo che sia mio preciso dovere informare i pescaresi.